Mi chiamo Costantino Fadda, sono un professore associato di scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Sassari e svolgo la mia attività all'interno del Dipartimento di Agraria. Il progetto IDOLI nasce da un'idea sviluppata insieme all'azienda Capofila, Accademia Olearia, in cui si è cercato di innovare la produzione olivicola, in particolar modo con la loro idea, il loro spunto che è nato dal cercare di creare un nuovo prodotto alimentare che consiste nella sfericazione dell'olio d'oliva extravergine all'interno di una matrice edibile. Da lì è nata la proposta progettuale che ha preso sviluppo con il bando Agroindustria, in cui noi come Università di Sassari e del Dipartimento di Agraria abbiamo cercato di sviluppare un'idea insieme ad altri partner progettuali. In particolar modo abbiamo coinvolto in un primo momento un altro ente di ricerca che è Agris, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna, insieme alla Capofila, Accademia Olearia e poi siamo andati alla ricerca di altre aziende agroalimentari. All'interno del partenariato, insieme alle due aziende agroalimentari e all'azienda eodermica, che fa parte della cosmetica, è stato coinvolto un'ulteriore azienda che fa parte invece dell'ICT e è stata aggiunta come elemento trasversale alle attività condotte dalle altre aziende. Per quanto riguarda le altre aziende, oltre all'Accademia Olearia, è stato coinvolto il caseificio Corvetto per cercare di innovare un altro settore tradizionale dell'industria agroalimentare della regione Sardegna, quale il settore latero caseario, attraverso la creazione di un nuovo prodotto che contenesse anche l'olio extravergine di oliva. L'azienda eodermica, che produce dei prodotti cosmetici, è stata coinvolta per cercare di valorizzare alcuni sottoprodotti dell'industria olivicola, in particolar modo attraverso l'utilizzo delle foglie che vengono eliminate durante il processo di lavorazione delle olive, cercando di creare degli estratti che possano dare un valore aggiunto a due prodotti cosmetici, quale sono una crema a bagno e una crema a cambio per bambini piccoli. Un'azienda invece che ha svolto un lavoro trasversale alle tre attività delle altre aziende è l'azienda Sein Biometrics, che si occupa di ICT e che ha affrontato una tematica che era quella relativa a creare un portale e un codice di riferimento per i prodotti che sono stati sviluppati all'interno del progetto Idoli. Sono Massimo Pes, un tecnologo caseario, lavoro per l'agenzia Agris Sardegna. Nell'ambito di questo progetto l'Agris Sardegna è stata chiamata a condurre la sperimentazione relativa all'utilizzo dell'olio di oliva in campo caseario. Nel campo caseario l'olio di oliva chiaramente è un componente esogene, un componente che non viene normalmente utilizzato, quindi la sfida è stata quella proprio di tentare di utilizzare l'olio con due modalità. Una prima modalità è stata quella di utilizzare appunto l'olio come conservante del formaggio e una seconda modalità invece è stata quella che prevedeva l'utilizzo dell'olio come appunto componente esogeno all'interno della matrice casearia, quindi all'interno del formaggio. La linea 2, questa seconda linea quindi di integrazione dell'olio all'interno della matrice casearia è la linea che ha dato più soddisfazione sia dal punto di vista dei risultati scientifici sia dal punto di vista del trasferimento tecnologico presso l'azienda Corvetto. È stata fatta la sperimentazione chiaramente nei laboratori di Bonassai e poi dopo i primi risultati è stato fatto il trasferimento tecnologico presso l'azienda Corvetto, eseguendo una serie di lavorazioni che hanno portato alla produzione di due tipologie di formaggio, due sostanzialmente due formaggi a pasta molle, uno con l'olio aromatizzato al limone e uno con l'olio aromatizzato al tartufo. Nell'ambito di questo progetto ha collaborato due borsisti, uno nel settore di microbiologia che ha curato la shelf life delle produzioni praticamente e ha valutato l'effetto dell'uso dell'olio sulle microflore lattiche utilizzate per la produzione dei formaggi e un borsista che ha curato gli aspetti fisico-chimici e quindi relativi alla composizione sia fisico-chimica che nutrizionale dei formaggi e anche alcuni aspetti tecnologici. Questa ricerca è una ricerca riteniamo molto innovativa perché in sostanza abbiamo introdotto all'interno di una matrice di origine animale una sostanza di origine vegetale, modificando di fatto lievemente la composizione del formaggio e quindi apportando sostanze che hanno comunque un valore nutrizionale come ad esempio gli acidi grassi monoinsaturi che sono contenuti in grande quantità nell'olio d'oliva e anche in parte la vitamina E che è contenuta nell'olio d'oliva. Quindi sono due aspetti molto importanti e che sicuramente rappresentano la grande innovazione per il settore caseario, in particolare in Sardegna dove di innovazione nel campo caseario se ne fa purtroppo molto poca. Sono la dottoressa Maria Grazia Farpo, nasco come microbiologa e attualmente sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Agrario dell'Università degli Studi di Sassari. Nell'ambito del progetto IDOLI, agroindustria, mi sono occupata insieme a un team di altri ricercatori del professor Costantino Fadda dello sviluppo di un importante work package, cioè quello dell'incapsulamento dell'olio d'oliva, in particolare di oli monovariettali. Lo sviluppo del work package ha visto all'inizio dei differenti test e prove validi per la miscela di differenti biopolimeri insieme a diverse varietà di oli extravergini di oliva prodotti in Sardegna. Quindi possiamo dire che la tecnica e l'incapsulamento dell'olio monovariettale può essere definita come una nuova tecnica brevettata e oltretutto può vantare il fatto di essere un prodotto made in Sardegna contenente a sua volta un ulteriore prodotto made in Sardegna. Sono Roberto Cavizza, di formazione sono un biotecnologo e ho collaborato all'interno del progetto Idoli Agroindustria, seguendo diversi aspetti. Il più importante che ho seguito è quello che ha visto coinvolta l'azienda eudermica che ha sede a Portoconte e l'azienda Accademia Olearia che ha sede ad Alghero. Il work package che ho seguito del progetto Idoli ha visto coinvolta Accademia Olearia e l'azienda eudermica per la realizzazione di prodotti cosmetici destinati ai bambini. Sono stati realizzati a partire da degli scarti dell'industria olearia, quali le foglie d'olivo di Cultivar Sarda, dei prodotti come un bagnetto Baby e una crema a cambio pannolino Baby. La parte interessante del work package che ho seguito è stata quella di andare a riutilizzare gli scarti dell'azienda Olearia e riutilizzarli per la creazione di cosmetici, quindi cercare di unire attraverso l'economia circolare due industrie che sono molto distanti tra loro. Mi chiamo Antonello Fois e sono uno dei rappresentanti della famiglia che ha creato l'Accademia Olearia ad Alghero. La nostra azienda si occupa di olivicoltura da metà 1800 e in questi anni si è sempre più dimostrata e portata a livelli importanti a livello nazionale e internazionale. Produciamo olio extravergine d'oliva di OP Sardegna in prevalenza e negli ultimi anni stiamo sviluppando dei nuovi progetti per aumentare la percezione, la divulgazione proprio di questo prodotto. In questi ultimi anni abbiamo pensato e ragionato insieme a Agris, insieme all'Università e insieme a Sardegna Ricerche, proprio delle metodologie per poter cambiare la percezione dell'olio extravergine d'oliva. Per fare questo abbiamo cercato di guardare molto all'interno di quelli che sono i modi di consumo e le esigenze dei consumatori che nei tempi moderni sono sempre più cambiate. Abbiamo dunque selezionato delle fasce di clientela, di popolazione con diverse esigenze in modo da dedicare i nostri prodotti arricchendoli con un contenuto vitaminico specificatamente misurato e studiato per le loro esigenze in modo da personalizzare il prodotto proprio per la loro cucina e per il loro utilizzo quotidiano, a seconda di quelli che sono i loro modelli comportamentali. Per fare un esempio andiamo sulla parte neonatale, sulla parte di un'alimentazione per uno sportivo o per chi magari è un po' più avanti con gli anni e ha necessità di altre caratteristiche per proseguire uno stile di vita adeguato e sano e proseguire la sua vita con serenità. Insieme a quest'altro progetto abbiamo studiato una modalità per poter proporre diversamente l'olio extravergine d'oliva, ovvero quello di incapsularlo, rendere quindi solido un prodotto liquido. Questo cambia la percezione sia a livello di proposta visiva e quindi ci apre degli scenari nel mondo dell'alta cucina, quindi degli chef stellati, ma sia anche nelle metodiche di dosaggio da parte del ristoratore e del consumatore perché sempre più siamo attenti a misurare ogni cosa che andiamo a inserire nella nostra alimentazione. Pensiamo che comunque guardare sempre più all'interno di chi va a consumare questi prodotti, intercettarne le esigenze e studiarle insieme agli enti di ricerca che ci accompagnano in questo percorso sia la chiave di successo per affrontare i mercati nel futuro.